Signori all'ascolto buonasera. Prendiamo la linea in diretta dallo studio centrale di Teleradio Pace. La giornata per la vita del 2017 aveva come tema e come spunto quello di prendersi cura dei piccoli e degli anziani. Questa sera parleremo soprattutto del diritto di nascere. Non è l'unico argomento della trasmissione, ma è certamente quello su cui ci concentreremo maggiormente, proprio perché questo diritto dell'embrione, questo diritto del bambino concepito, da un lato sembra la cosa più naturale di questo mondo, dall'altro invece da molti anni viene osteggiato. È un principio che fa fatica a imporsi a livello europeo soprattutto. Vogliamo sentire anche il parere dei nostri ascoltatori durante la trasmissione di questa sera. Approfondiremo l'argomento con i nostri ospiti. Abbiamo nello studio centrale Domenico Coviello, che è genetista dell'ospedale Galliera di Genova. Buonasera. Buonasera. E anche direttore del laboratorio di genetica umana all'ospedale Galliera. Abbiamo poi nello studio due altri tre ospiti che arricchiranno la trasmissione con le loro osservazioni sul campo, ovvero Preterinaldo Rocca, che è assistente dei centri di aiuto alla vita del Tiguglio. Buonasera Preterinaldo. Buonasera. E poi abbiamo Antonella Carpi, presidente del centro di aiuto alla vita di Rapallo. Buonasera. Buonasera. E Laura Robles, che è capo ostetrica nel reparto di ostetricia all'ospedale di Lavagna. Buonasera. Buonasera. Dicevamo che per i nostri ascoltatori diamo la possibilità, come sempre, di intervenire facendo domande oppure osservazioni ai nostri ospiti. I numeri sono quelli di riferimento, quindi il numero telefonico 0185 32 42 42. In sombrippressione vedrete anche il numero per mandare gli sms oppure anche dei messaggi whatsapp. Oppure ancora c'è la possibilità di inviare delle e-mail all'indirizzo di posta elettronica direttamente su chiocciolalibero.it. Abbiamo detto che la giornata della vita tocca molti aspetti. In generale la Chiesa Cattolica è impegnata nella difesa della vita dal concepimento sino alla morte naturale. Chiamo subito in causa Preterinaldo per domandare questo. La giornata della vita, che è giunta alla 39esima edizione, quest'anno ha avuto come punto di riferimento, come figura di riferimento Madre Teresa di Calcutta, alla quale è dedicata anche una mostra allestita attualmente all'Auditorium di San Francesco di Chiavari. Richiamiamo qual è il motivo di questo riferimento a Madre Teresa. Sì, i Vescovi, tanto prima, riprendono il sogno di Dio sulla persona che il Papa spesso evidenzia. e li invita a sognare in grande e al coraggio poi di andare oltre col sogno, agendo e impegnandosi nella vita e per la vita. E poi in particolare l'attenzione del Papa che ha per i nonni e i bambini come memoria e futuro della vita. E poi fanno l'esempio esplicito di Madre Teresa con il suo amore per la vita a tutto tondo. L'accoglienza, lei ha iniziato dai malati terminali, ma diceva che la più grande offesa è l'impedire ad un bambino di nascere. E viene citata la sua preghiera, la vita che finisce dicendo la vita è vita difendi, la promuovala, ammila, amala, eccetera, che è molto bella. E ancora dice che nel suo ossete, diciamo veramente nel grido di Gesù in croce che è presente accanto al crocifisso in tutte le case di Madre Teresa, in quel grido di Gesù c'è il grido di tutti i sofferenti e di tutte le persone diciamo che hanno bisogno di arrivare alla pienezza della vita. Il più povero tra i poveri, così Madre Teresa di Calcutta definiva il bambino non ancora nato, quindi il bambino concepito, che quindi ha bisogno da questo punto di vista di assistenza e di difesa, è quello che diremo anche durante la trasmissione questa sera, preterinaldo. Sì, è perché è totalmente indifeso e totalmente da accogliere e da custodire, da aiutare a vivere e non da impedire la sua nascita. Però è giusto che davvero partendo da lì o arrivandoci ci sia dato proprio il gusto della vita come dono, come sacralità, come bellezza, come anche nelle fatiche che ci possono essere, nelle difficoltà genetiche, mettiamoci tutto, però è davvero una vita ed è un figlio poi, che è questo che è ancora più fondamentale. Quindi il messaggio bello della giornata per la vita è che la vita è un dono, va accolto, va accompagnato, va custodito, va aiutato, va difeso, va tutto quello che è possibile, proprio perché è dono e grazia, anche quando è pesante, quando ci sono delle difficoltà, ma con l'amare la vita, amare la persona concreta, le difficoltà si superano e diventano risorse. Questo messaggio positivo per la vita umana che abbiamo sentito da parte di preterinaldo Rocca, che poi è il messaggio della Chiesa Cattolica, e non solo, però viene a volte osteggiato in maniera anche dura a livello culturale, a livello politico, forse anche a livello medico, Domenico Coviello. Ma in realtà spesso viene affermata che la vita non inizia immediatamente, inizia dopo un po', e quindi si può tranquillamente non considerare quel grumo di cellule, come spesso viene chiamato, ancora vita. Ma io penso che sia importante invece capire l'aspetto biologico e porrei questa sera tre questioni, in particolare cosa caratterizza l'essere umano, cosa ci caratterizza, cosa ci distingue da un altro animale, perché questa componente è così importante e quindi come questa componente poi dà origine alla prima cellula, e poi dalla prima cellula cosa succede. Vediamo questi tre punti interrogativi che lei ha proposto, propone anche ai nostri ascoltatori, che abbiamo visualizzato con un'immagine, però tornando alla questione, il diritto di nascere, dicevamo in apertura, di per sé è un dato naturale, ma in realtà è un'affermazione che richiede in qualche modo di farsi largo nell'opinione pubblica, di riprendere campo? Sicuramente è semplice o era molto semplice una volta vedere un bimbo e avere la sensazione che avesse diritto a stare al mondo. Oggi sappiamo che riusciamo a vedere all'interno dello sviluppo dell'embrione fin dalla prima cellula e quindi sempre più dovremmo essere coscienti dell'origine biologica dell'essere umano e per questo che stiamo cercando di sviluppare insieme questi tre punti. Ecco, li rivediamo. Ecco, quindi cosa caratterizza l'essere umano? Qual è? Ecco, diciamo subito qual è la risposta, quali sono le caratteristiche, perché quando è che si può parlare in effetti di essere umano? Sappiamo che la caratteristica genetica che caratterizza l'essere umano da altri animali è proprio il numero dei cromosomi, sappiamo che nei cromosomi c'è il DNA, quindi c'è tutto il messaggio della nostra vita. Quanti sono i cromosomi nell'uomo? Nell'uomo abbiamo 46 cromosomi e nella prossima immagine... Sì, vediamo adesso come si forma allora... Come si forma il ciclo della vita, quindi vediamo che... Questo è il ciclo vitale, si vede proprio che cosa... In cui c'è una coppia, quindi partiamo dalla coppia e dalla coppia vediamo che si formano delle cellule speciali, che sono i gameti, e queste cellule speciali si uniscono e formano la prima cellula. Ecco, questo è il punto importante dove i 46 cromosomi che sono caratteristici della specie umana subiscono una trasformazione particolare perché essendo divisi in 23 coppie devono dividersi quindi le coppie dei cromosomi, diciamo, migrano ai poli della cellula... Le interrompo su questo perché poi abbiamo un'immagine più precisa. Per finire il ciclo possiamo dire che allora quello è il momento della scintilla iniziale, il concepimento. Lo zigote è la prima cellula. Poi qui abbiamo lo sviluppo per fasi che porta... Abbiamo una serie di fasi per cui non ci sono stop particolari o caratterizzazioni particolari se non quello di uno sviluppo progressivo da una cellula, due e così via fino alla formazione dell'embrione e del bambino che nasce. Quindi molto semplicemente questo senza soluzioni di continuità è il processo di concepimento e poi di sviluppo dell'embrione fino alla nascita. E questo è lo scopo del mantenimento anche della specie umana, cioè la riproduzione. E lei ci voleva far vedere invece qualche immagine che fa comprendere meglio come lo spermatozoo secondo l'ovulo. Questi sono i cromosomi visti al microscopio. Oggi quando analizziamo appunto in laboratorio le cellule di una persona vediamo che qui abbiamo 46 cromosomi. Una volta visti così al microscopio li mettiamo in ordine al computer e nella prossima immagine vediamo quello che molti di voi hanno già visto, cioè quello del cariotipo. Adesso che è saltato all'immagine. Comunque i due cromosomi sono tutti a coppie. Sì, dovremmo vedere quindi nell'immagine successiva i 46 cromosomi che in realtà scaturiscono la combinazione di 23 più 23. Di 23 più 23. Vediamo che per ogni coppia ogni persona ha ereditato un cromosoma numero uno dal papà e uno dalla mamma. Quindi il bimbo che riceverà a caso solo uno dei due cromosomi prenderà delle caratteristiche o del nonno paterno o della nonna materna e così via. Le 23 coppie sono numerate dall'1 al 22 e la 23esima come tutti sanno sono i cromosomi del sesso per cui abbiamo due X nella donna e XY nel maschio. Quindi quella coppia cerchiata di rosso in queste immagini. Esatto e in questo caso possiamo vedere che le donne daranno sempre un cromosoma X mentre l'uomo darà o l'X o la Y quindi il fatto è che ci siano dei maschi o delle femmine è dovuto alla componente degli spermatozoi. E così proseguiamo? Se proseguiamo vediamo che l'unione quindi di questi 23 cromosomi che derivano dal papà e 23 dalla mamma riformano questa prima cellula da 46 cromosomi e come abbiamo visto la mescolanza dei cromosomi che arrivano in parte dal nonno paterno, in parte dalla nonna materna e in parte dal nonno invece materno e paterno sono un numero infinito e quindi l'individuo che viene a formarsi avrà un patrimonio genetico che è ricostituito con 46 cromosomi e caratteristico della specie ma sarà completamente nuovo per la mescolanza di tutti questi geni. E quindi questo ci fa capire come davvero ogni persona sia davvero unica e ripetibile. E anche analizzando la sequenza del DNA se vediamo nella prossima immagine si può vedere come in realtà le due componenti si vanno a intersecare sia i cromosomi sia le sequenze geniche e quindi qui c'è un esempio molto semplice in cui da Martino e Yolanda verrà fuori un Mario perché si uniscono le due componenti dei due genitori. C'è ancora un'immagine con la quale concludiamo questa prima breve presentazione che ci mostra l'ovulo, andiamo a quella successiva, ci mostra l'ovulo che sta per essere fecondato dagli spermatozoi, eccola è questa. Ecco questa è un'immagine reale per cui si vede la proporzione tra l'oocita che è una cellula importantissima e che è quella che deriva dalla mamma e lo spermatozoo. Nell'oocita non ci sono solo i 23 cromosomi materni ma c'è tutta la componente della cellula che si chiama citoplasma con miliardi di messaggi che sono quelli di origine materna e che servono poi a dare le istruzioni a questa prima cellula di iniziare il percorso molto complesso dello sviluppo e da una cellula si arriverà a un organismo intero, quindi non a un semplice organo ma a un organismo intero. Quindi cosa succede? Che uno solo di questi spermatozoi va a fecondare l'ovulo e da quel momento in poi l'ovulo diventa impermeabile? Diventa impermeabile per cui gli altri spermatozoi non riusciranno a penetrare la parete dell'ovulo e l'unione dei 23 cromosomi del papà con i 23 cromosomi della mamma daranno origine diciamo a una serie di passaggi che determineranno poi le caratteristiche del nuovo individuo. Il fatto che sia uno spermatozoo oppure un altro, quello che penetra all'interno dell'ovulo poi detta delle differenze oppure no? Beh certo, le differenze sono quelle di portare un differente contributo di cromosomi dei nonni e quindi ogni spermatozoo avrà casualmente più cromosomi di un nonno o più cromosomi dell'altro e quindi le somiglianze potranno essere casualmente più di un nonno o di una nonna insomma. Però se è così chiaro dal punto di vista medico che questo è il momento iniziale, la scintilla, da questo punto in avanti effettivamente sgorga una vita umana nuova, una vita che mai esistiva prima e una vita che poi continuerà senza soluzione di continuità, un processo naturale che porterà alla nascita e poi allo sviluppo della vita di una persona, perché dal punto di vista medico ci sono sempre dei dibattiti in corso? Oppure i medici sanno chiaro che le cose stanno così? Ma diciamo che la biologia è questa. Poi qui entra in gioco la scienza tra virgolette, nel senso la scienza che fa ricerca, la scienza che può essere in qualche modo anche spinta da interessi commerciali, per cui può essere più o meno conveniente porre delle definizioni differenti e quindi dire ma fino al 14esimo giorno non è ancora un essere umano perché le cellule sono tutte uguali, non è iniziato a definirsi la forma del corpo umano, non ci sono le componenti nervose divise dalle altre cellule, ma in realtà sono definizioni che vengono presi per convenzione per porre un limite entro il quale poter liberalizzare l'utilizzo di queste cellule e quindi anche la distruzione dell'embrione. Sicuramente è molto più semplice per l'industria utilizzare delle cellule distruggendo degli embrioni che oggi sono facilmente prodotti in provetta rispetto a una sperimentazione scientifica su degli organi adulti. Questa è la spiegazione da cui partiamo per sviluppare il discorso, questa sera ci interessa soprattutto a capire effettivamente la fase della gravidanza così bella e misteriosa, come va vissuta, come vanno accompagnate le mamme e i bambini alla nascita. Tornando però sul tema generale della giornata per la vita, adesso sentiamo gli spunti che ha dato Carlo Casini che è intervenuto in un convegno a Chiavari all'auditorium San Francesco promosso proprio dal Movimento per la vita in occasione della giornata per la vita con l'inaugurazione della mostra su Madre Teresa di Calcutta. Carlo Casini ha toccato alcuni aspetti, li abbiamo sintetizzati nell'intervista che vi proponiamo. Lei ha avuto anche un rapporto personale con Madre Teresa, ha avuto varie occasioni per incontrarla. Che cosa la colpì maggiormente di questa santa? Prima di tutto la sua consonanza totale con ciò che il Movimento per la vita fa e dice. Noi abbiamo avuto da lei un incoraggiamento potente, lei ha partecipato addirittura alle manifestazioni per il referendum del 1981. Questo ci ha molto incoraggiato, mi ha colpito sempre e soprattutto la sua condivisione della povertà, non soltanto aiutare i poveri, ma essere lei stessa povera. In questo contesto l'affermazione ripetuta di Madre Teresa che il bambino non è ancora nato, è il più povero tra i poveri, ci ha dato slancio nell'affermazione che il nostro lavoro è una cosa seria, fa parte della povertà. Una volta gli scrissi per chiedere alla madre, lei si occupa di tutte le povertà e noi non riusciamo a seguire tutte le possibili povertà come lei fa, non ce la facciamo. Lei ci rispose dicendo non vi preoccupate, il più povero dei poveri, il bambino non è nato, quindi se non riuscite a fare altre cose già fate tanto perché il bambino non è ancora nato, oggi è vittima di un olocausto e quindi chi si occupa, chi cerca di contrastare gli olocausti, lavora contro la povertà, lavora per Dio, fa quello che può. In coscienza non vi turbate. Il Movimento per la Vita ha promosso un'iniziativa intitolata l'Embrione 1 di noi che tra poco verrà rilanciata. Intanto qual è l'affermazione di principio? Che cosa si vuole sostenere dicendo l'Embrione 1 di noi? Si vuol dire che non vi è differenza quanto alla dignità umana e quindi al diritto di esistere fra qualsiasi uomo. Quando l'uomo è così piccolo, così povero da non avere altra ricchezza che la sua appartenenza all'umanità lo si considera piuttosto un oggetto, non un soggetto, non una persona e quindi come tale può essere ucciso, può essere distrutto, se questo serve a garantire una vita senza difficoltà di una donna o comunque a fare ricerche che possono eventualmente, sperabilmente guarire delle malattie o fare scoperte scientifiche. Lo scontro culturale oggi versi su questo. Il bambino non nato fin dal concepimento è uno di noi perché ha la nostra stessa identità umana e si svilupperà e crescerà in forza del patrimonio genetico che è sempre quello, se non ci sono salti di qualità, un bambino appena nato non è molto diverso da quello stesso bambino che stava poco tempo prima nel seno materno. Sono discorsi di ragione, non sono discorsi di fede e basta. Voi avevate già raccolto 2 milioni di firme per questa petizione popolare che è stata respinta dalla Commissione europea. Non vi arrendete e rilanciate. Adesso che cosa state facendo? La richiesta era di cessare i finanziamenti europei che possono determinare la distruzione dei membri umani o con l'aborto o con la sperimentazione distruttiva. Allora non abbiamo detto che non ci arrendiamo e se voi non volete ascoltare i cittadini europei, ascoltate almeno la cultura europea, cioè coloro che se ne intendono, coloro che sanno, coloro che hanno particolare responsabilità. Ed ecco perché abbiamo lanciato questa petizione che io chiamo però testimonianza appello. Testimonianza perché consiste in una dichiarazione concordata con tutti i movimenti per la vita d'Europa, questo è un lavoro lungo perché quando si parla in lingue diverse si trovate poi le formule precise, una testimonianza che si chiede di sottoscrivere a operatori della sanità, quindi scienziati, medici, biologi, ostetriche, farmacisti e devono dire è vero, noi affermiamo in quanto consapevoli della realtà scientifica che è vero che l'embreo umano è uno di noi e abbiamo chiesto a coloro che hanno responsabilità, che sono giuristi e infine i politici, non sono parlamentari ma anche di livello locale, consiglieri comunali, provinciali, regionali, dirigenti di partito che dicono anche noi affermiamo in quanto politici, in quanto quindi sensibili al bene comune e il concepito è uno di noi, raccogliamo le adesioni che possono essere raccolte sia telematicamente dal sito italiano dove si trovano tutte le altre informazioni www.unodinoi.org oppure si può firmare anche su carta, su schede che si possono scaricare da questo sito, fotocopiare anche per aiutarci a raggiungere il maggior numero possibile di persone. Come abbiamo sentito il Movimento per la Vita sta continuando questa battaglia con questa petizione, questa testimonianza, questo appello, l'embreone è uno di noi da lanciare a tutte le istituzioni europee, quindi l'appello può essere firmato dai medici e dagli operatori sanitari per affermare che è vero che l'embreone è uno di noi, i giuristi per dire che è giusto riconoscergli gli stessi diritti di tutti, i politici che sosterranno che è doveroso scriverlo nelle norme. A questo riguardo diciamo anche al nostro pubblico di esprimersi, se comunque è favorevole a questo concetto da far passare a livello europeo l'embreone è uno di noi, ricordiamo ancora il numero telefonico 0185 32 42 42 per gli sms 320 38 56 000 in diretta tv lunedì sera, Roberta Raffo sta raccogliendo le domande da parte del nostro pubblico. A proposito dei medici che vengono chiamati a esprimersi, Domenico Coviello che cosa dice? Sta circolando questa richiesta di testimonianza? Questa richiesta sta circolando e insieme a delle iniziative che cercano di portare anche l'informazione alla popolazione sulle cose che stiamo dibattendo anche questa sera, perché solo una corretta informazione può probabilmente dare forza e coraggio alle persone che a volte sono un po' indecise e rimangono in dubbio su questo argomento. Madre Teresa diceva, io chiamo i bambini non ancora nati i più poveri dei poveri e poi ha affermato che il bambino è fatto per amare e per essere amato. A questo riguardo vorrei chiedere qualche parere agli nostri ospiti in studio, incominciando da Laura Robles, si ritrova in queste affermazioni di Madre Teresa? Sì, sicuramente, sicuramente, io credo che il bambino vada tutelato in ogni momento, in ogni fase della sua esistenza, quindi dal momento del concepimento al momento della nascita e per noi ostetriche è essenziale accompagnarle durante la gravidanza e soprattutto dare una buona nascita. Madre Teresa è appena stata canonizzata il 4 settembre 2016, come noto ricevete il premio Nobel per la pace e quando a Oslo si recò per la cerimonia di conferimento, l'11 dicembre 1979, ha detto alcune frasi certamente molto forti, molto efficaci, incisive, forse pesanti per alcuni, in particolar modo l'aborto è il più grande distruttore della pace, detto da lei che aveva appena ricevuto il premio Nobel per la pace. Che cosa ne pensa di questa affermazione, Antonella Carpi? Sicuramente sì, se lo pensiamo anche relativo alla pace delle mamme che magari per i loro motivi arrivano poi a sceglierlo l'aborto. Io vedo le mamme che seguiamo noi al centro di aiuto alla vita, che le aiutiamo e le sosteniamo nel momento della decisione, poi decidono di portare avanti la gravidanza, poi comunque quando arriva la nascita del loro bimbo sono felici, sono proprio in pace, quindi il negare questo sicuramente è un grave, un grosso attentato alla pace, alla pace personale e alla pace di tutti. Il centro di aiuto alla vita come funziona? Le mamme si recano da voi quando sono in difficoltà ad accettare la gravidanza oppure hanno bisogno di qualche consiglio? O capita anche il caso invece di mamme che non vogliono avere i figli e poi ci ripensano? Sì, ci sono un po' tanti aspetti, nel senso che ci possono essere delle mamme che hanno difficoltà di tipo economico e che quindi chiedono il nostro supporto, magari giusto per a volte anche dei farmaci da prendere durante la gravidanza e poi oppure anche quelle che invece sono nel dubbio che magari chiamano il telefono dell'SOS Vita perché sono in difficoltà e allora indirizzate a noi comincia un rapporto che nella più completa libertà della mamma gli permette di poter decidere con un po' più di consapevolezza. Si dice che molto spesso sono le condizioni economiche che rendono difficile l'accoglienza della vita di un bambino, è così, è ancora così oppure ci sono anche altri fattori pesanti? Sicuramente le condizioni economiche incidono e infatti anche la possibilità di poter usufruire di un progetto GEMA che sono delle, diciamo che è una quota che mensilmente viene garantita per 18 mesi dalla attivazione del progetto per 18 mesi successivi è per loro una fonte di sollievo ma non è solamente questa, a volte sono ragazze giovani e ragazze che non hanno magari il compagno che sono lasciate sole proprio perché rimaste incinte oppure che hanno paura a dirlo in casa oppure perché hanno anche altre delle situazioni magari un po' familiari, un po' particolari quindi non è sempre solamente il discorso economico, certo la possibilità di poter pensare di avere anche un sostegno economico che garantisca comunque un accudimento per il bambino nei primi mesi di vita sicuramente è importante, ma non è solo quello, infatti il grosso del nostro lavoro lavoro tra virgolette ovviamente è quello di accompagnarle, di star vicino a loro e chi poi decide di proseguire la gravidanza non gli stiamo vicine sempre anche al momento del parto anche dopo, è un'esperienza davvero bella, proprio bella Laura Robles che cosa succede in ospedale a Lavagna? Nel senso le donne, chiaramente voi dovete rispettare la volontà delle mamme però arrivano già con le idee chiare oppure a volte hanno bisogno di una parola, di un consiglio, il vostro ruolo come si colloca? A noi arrivano già con le idee chiare perché hanno già avuto un colloquio col medico e quindi è molto difficile per noi, anzi non dobbiamo intervenire perché la mamma quando si presenta da noi la donna ha già deciso quello che farà, io credo che ci dovrebbe essere come in tutte le cose una buona prevenzione, una buona informazione già a partire dalle scuole Però in questi anni se ne fa tanta informazione su questi argomenti, non abbastanza? Non è ancora sufficiente evidentemente Il vostro ruolo invece è di accompagnamento della puerpera durante tutto il periodo della gravidanza sino alla nascita, di che cosa hanno bisogno le donne? Le donne sostanzialmente hanno bisogno di avere tante informazioni, di vivere il momento della gravidanza tranquille, di avere delle certezze, anche se chiaramente noi non possiamo dare certezze hanno bisogno di vivere il gruppo e soprattutto hanno bisogno di prendere la consapevolezza che stanno per diventare mamme Molto spesso le mamme, le donne in gravidanza fanno tanti controlli, portano il bambino tante volte a fare l'ecografia Noi ostetriche le portiamo a prendere consapevolezza, coscienza che il bambino già va considerato da subito, dal momento del concepimento un essere a tutti gli effetti con un corpo fisico che è in crescita ma con delle emozioni con un inconscio molto attivo e quindi ad accompagnarlo anche a vivere delle buone emozioni, dei buoni momenti a nutrirsi bene il nutrimento, sappiamo che non è solo fisico, il nutrimento è anche emotivo di nutrirsi delle buone emozioni Le interroppo solo un istante su questo intanto per chiedere una conferma al nostro genetista Domenico Coviello nel senso, questi nove mesi di gravidanza evidentemente sono dedicati per la mamma ma soprattutto per il bambino, per il nascituro possiamo anche definirli decisivi cioè in che cosa questi nove mesi effettivamente determinano poi le sorti del bambino a questo riguardo c'è proprio una branca della materia che si chiama epigenetica e che studia questo però prima di andare sul difficile così in parole povere quanto è importante questa fase? Ma direi che è importantissima per alcuni aspetti che sono già stati citati perché tutto ciò che circonda l'embrione dalla fisicità dell'utero alle sensazioni della mamma al modo in cui la mamma vive più o meno rilassata la gravidanza influiranno su quello che sarà poi il bambino abbiamo accennato prima ma quello che sarà il bambino nel senso emotivo, psicologico, caratteriale in tutti i sensi mentre diciamo che le caratteristiche fisiche sono molto determinate da componenti genetiche come per esempio l'altezza o anche la somiglianza come abbiamo già citato prima molte altre componenti quale il carattere, quale l'attitudine alla musica per esempio o anche ad altri aspetti viene già influenzata in questo periodo della gravidanza proprio perché abbiamo visto che ci sono questi 46 cromosomi ma questi 46 cromosomi hanno dentro tutti i geni che faranno differenziare le cellule che sono tutte uguali nei vari organi nel cervello, nel cuore, nei muscoli, nello scheletro e i segnali che determineranno questi cambiamenti sono tantissimi pensate che solo l'1% dei geni serve a costruire i mattoni del nostro corpo cioè il nostro corpo sarà costruito solo dall'1% dei geni mentre a quanto ne sappiamo oggi più del 50% del DNA serve per creare questi fattori che regolano il DNA e che quindi determinano poi lo sviluppo di una cellula in muscolo, in cuore accendendo e spegnendo tutti i geni in modo appropriato a questo punto le devo chiedere il restante 50% o se preferisce il 49% a cosa serve? ecco e questo è ancora oggetto di studio all'inizio si diceva che l'1% del DNA era quello importante il resto si chiamava DNA spazzatura sembrava che l'evoluzione avesse creato questa sovrabbondanza DNA per proteggere il DNA stesso dalle mutazioni che avvengono spontaneamente in realtà abbiamo visto siamo arrivati al 50% l'altro è ancora tutto da scoprire ed è un'epoca importantissima quella che stiamo vivendo proprio perché sempre in modo più veloce riusciamo ad avere informazioni sul cosa contiene il DNA e quindi riusciamo a leggere quel famoso libro che è stato sequenziato all'inizio di questo secolo stanno arrivando da parte di nostri ascoltatori i primi commenti, i primi messaggi leggiamo i primi due che sono significativi sono prese di posizione molto chiare secondo me anche l'embrione è uno di noi uno di noi è sempre uno di noi bisognerebbe fare arrivare questo messaggio ed è importante farlo arrivare a tutti e poi ancora un altro messaggio io mi chiedo ma non potrebbe fare tanto la scuola in merito a questo tema? si dovrebbero fare letture incontri, seminari la vita è meravigliosa sempre e in ogni caso e qui riecheggia quanto diceva precedentemente Laura Robles naturalmente siamo aperti a messaggi anche di persone che abbiano dei dubbi o abbiano dei pensieri contrari a quello che viene detto in trasmissione per avviare in questo modo il confronto quindi Laura Robles sentendo anche le spiegazioni di Domenico Coviello effettivamente torniamo sulla importanza e delicatezza di questi nove mesi di gravidanza lei diceva che a volte la donna non è consapevole effettivamente di quanto siano importanti quindi dell'attenzione a quello che si mangia a quello che si vive a quello che si pensa alle emozioni che si passano non ha abbastanza informazioni per me è molto difficile far capire a una donna che il bambino sente che il bambino ascolta vive dei messaggi della mamma e anche di quelli che porta il papà a casa non è facile spesso mi guardano dicendo ma sarà vero quello che sta raccontando Laura anche chi ha una seconda o terza gravidanza sì proprio così è il nostro compito proprio quello di cercare di renderli consapevoli del momento meraviglioso dell'opportunità unica che hanno perché loro possono forgiare non solo diceva il genetista prima che sono dei geni che danno certe caratteristiche certe altre le possiamo dare a nostro figlio in un altro modo trasmettendo delle emozioni positive cercando di di vivere una vita sana di vivere una vita sana a tutti gli effetti ma c'è un rapporto così diretto tra quello che si vive durante la gravidanza e passate il termine al risultato finale quindi il bambino che nasce io direi proprio di sì credo che questo il mondo scientifico è già da tanto tempo che lo dice che i presupposti della nostra vita futura vengono posti nella fase intrauterina ma voi lo riscontrate poi anche sul campo cioè poi una volta che il bambino è nato riconoscete nel bambino certe caratteristiche o certe problematiche discendenti dai nove mesi di gravidanza ma guardi subito immediatamente non si può interpretare come sarà un neonato come diventerà un adulto ma le mamme molto spesso portano le loro storie ero molto tranquilla ero serena in gravidanza il bambino è molto sereno un bambino che interagisce bene con tutti col mondo oppure la mamma che dice ero molto tesa in gravidanza abbiamo bimbi che dormono male che dormono poco io credo che su questo forse il genetista potrebbe dirci molto ora lo sentiamo comunque la vita dell'ostetrica allora incomincia la missione dell'ostetrica incomincia ben prima del parto dire di sì ma sì nella prevenzione nell'accompagnamento della mamma a quello che sarà l'evento parto a farle vivere una nascita una buona nascita alla madre e al bambino è importante che chi dà la luce sia molto tranquillo ma anche chi viene al mondo che venga accolto in un posto in cui la mamma si trova bene in cui lui sta bene che si senta accolto proprio per questo la nostra struttura ha creato dei momenti in cui mamma papà e bambino stanno insieme indisturbati in cui il papà si può fermare tanto tempo poi durante il tempo di degenza con la mamma questi credo che siano momenti molto importanti per la vita futura del nascituro Domenico Covieno vorrei tornare un attimo sul punto delle scuole secondo me è importantissimo che l'educazione parta dalle scuole i genetisti italiani si sono anche mossi in questo senso e da almeno sei anni ci sono delle iniziative in tutte le città per avere un contatto fra genetisti insegnanti delle scuole media e superiore e studenti abbiamo anche attuato un premio che è partito da una competizione europea e abbiamo anche dei premi italiani proprio per gli studenti che approfondiscono queste tematiche della genetica e anche a Genova in modo particolare ci sono stati dei momenti con insegnanti e studenti in alcuni caffè genovesi è stato chiamato Genetic Coffee è importantissimo che questo messaggio parta dai giovani ma direi che è importantissimo recuperare il rapporto umano quello che diceva l'ostetrica è importante quindi non solo l'informazione presa da internet quindi il nozionismo ma è importante secondo me la comunicazione anche non verbale che c'è fra persone quindi l'empatia che c'è fra le persone e tutti questi messaggi poi dicevamo prima arrivano sui geni e si parlava di epigenetica cosa vuol dire epigenetica vuol dire qualcosa che va sul DNA che proprio si lega sopra il DNA senza modificare le famose quattro lettere ma legandosi sul DNA può accendere e spegnere questi famosi geni e questi segnali vengono dall'esterno ma vengono dalle emozioni vengono dall'educazione vengono dalla temperatura a volte vengono da tantissimi fattori ma questo qualche cosa che si pone sopra i geni è fisico come vediamo dalle immagini o è una sovrastruttura psicologica no no sono proprio sostanze chimiche sono sostanze chimiche che si legano fanno dei legami ecco la differenza fra una mutazione genetica che provoca una malattia come noi conosciamo tutte le malattie genetiche quindi una mutazione dell'elica del DNA a differenza l'epigenetica si lega sul DNA ma si può staccare quindi è reversibile quindi mentre una mutazione genetica normalmente a meno che non si attui una terapia genica specifica è irreversibile invece l'epigenetica è reversibile si lega poi ci possono essere fenomeni che possono far slegare questo lucchetto diciamo che blocca il gene il gene può di nuovo esprimersi ma questo anche una volta che il bambino è nato questo agisce su tutta la vita l'esempio più classico che viene citato è quello di una persona che prende un grande spavento e le vengono tutti i capelli bianchi io ho assistito in campagna a Torriglia un contadino che si era molto semplice ma si era spaventato tantissimo per la morte del genitore dopo due giorni aveva tutti i capelli bianchi dopo due mesi ha ripreso il colore dei capelli quindi l'epigenetica ha dei segnali molto potenti sul DNA possono rimanere fissi per tutta la vita addirittura essere trasmessi alle generazioni successive ma possono anche essere reversibili nel giro di pochi mesi e quindi qui è importante il contatto fisico e quando si diceva la donna non deve rimanere da sola è importante perché ci sono questi segnali che vengono anche percepiti a livello di umore di sensazione e possono essere trasmessi molto più in modo molto più forte tra persone e persone piuttosto che leggere un'informazione sul libro torniamo adesso al tema dell'accompagnamento della donna in questa fase di gravidanza per sapere come all'era esperienza del centro di aiuto alla vita a Rapallo anche voi comunque affiancate la donna a parte l'intervento economico a cui aveva fatto riferimento prima affiancate la donna in questa fase dedicata che consiste nell'attesa del bambino nella preparazione al parto certamente noi come centro di aiuto alla vita di Rapallo abbiamo due sportelli uno a Rapallo e una Santa Margherita Ligure le mamme che accedono già durante la gravidanza appunto se arrivano nel momento della difficoltà che devono decidere lì si instaura proprio un rapporto che quindi va avanti proprio fin dall'inizio della gravidanza ci sono contatti con noi tra di noi ci sono siamo tutti volontari con diverse professionalità io sono pediatra ci sono altre professionalità ci sono delle counselor c'è qualche ostetrica quindi persone anche che hanno un percorso loro di bioetica personale e quindi ognuno con la propria individualità è in grado di dare qualcosa a queste mamme e di accompagnarle diamo qualche cenno statistico in Diocesi il primo centro di aiuto alla vita che si è costituito è quello di Rapallo nato il 12 novembre del 2001 che poi si è iscritto alle associazioni di volontariato nel 2002 a seguire si è aperto lo sportello di Santa Margherita Ligure il 29 aprile del 2010 e poi il movimento per la vita del Tiguglio è sorto nel febbraio del 2004 queste le date storiche in tutto questo periodo quindi dal 2001 al 2016 le mamme assistite sono state 232 i bambini nati sono stati 209 a cui vanno aggiunti i fratelli già nati ma assistiti contestualmente dal centro di aiuto alla vita e i progetti Gemma attivati sono stati 10 questo per tutto il periodo i progetti Gemma dal 2010 al 2016 per l'ultimo anno anno 2016 lo sportello di Rapallo ha assistito 63 mamme e ha fatto e 93 bambini e lo sportello di Santa Margherita Ligure 25 mamme e 39 bambini i bambini nuovi nati sono stati 15 a Rapallo e 7 a Santa Margherita Ligure lei personalmente Antonella Carpi ha seguito recentemente la storia di una mamma che l'ha particolarmente coinvolta dal punto di vista umano ci può raccontare un episodio interessante? sono tanti non posso dirne solo gli uno nel senso che tutte quelle che ho personalmente seguito mi stanno tutte nel cuore uno significativo ma forse quello che mi ha segnato di più è una mamma che era veramente in grossa difficoltà con il suo nuovo compagno l'aveva anche accompagnata al colloquio in consultorio dove aveva inizialmente deciso di abortire poi invece parlando proprio al colloquio al consultorio lei e il compagno avevano deciso di portare avanti comunque di crederci pensando che comunque forse le cose sarebbero andate bene anche se in quel momento sembrava che girasse tutto storto e in effetti poi hanno rinunciato all'aborto il compagno poi dopo poco ha cominciato ad avere un lavoro stabile poi è nato il bambino ma che cosa ha portato loro a rinunciare all'aborto? sicuramente il fatto che gli è stata data fiducia il fatto che ce la potevano fare il fatto che comunque c'era il progetto Gemma che molto probabilmente con cosa poi avvenuto è stato erogato quindi hanno potuto avere anche di questo sostegno economico che sono 160 euro per 18 mesi ma comunque sono un po' di soldi sono e quindi aiutano e comunque il fatto è che c'eravamo noi e che loro sapevano che comunque avevano qualcuno vicino e che comunque era la scelta che avevano dentro il cuore perché comunque l'aborto sarebbe stato veramente un ripiego fatto a malincuore e quindi ha prevarso la scelta della vita e questa e poi però gli dico questo è solo un caso ma ce ne sono tante altre veramente anche ragazze che sono adesso delle mamme meravigliose cioè veramente una gioia enorme enorme proprio adesso apriamo per un stante riflettori anche sull'altro centro di aiuto alla vita quello di Chiavari che è sorto nel 2002 e dall'inizio dell'attività ha fatto nascere 412 bambini per quanto riguarda questo ultimo anno quindi il 2016 i bambini nati sono stati 15 le gestanti assistite 33 e le donne assistite con varie forme di aiuto quindi escluso le gestanti sono state 101 il Cava di Chiavari ha anche uno sportello a Sestri Levante adesso andiamo a sentire la testimonianza proprio della responsabile di Sestri Levante che abbiamo intervistato in occasione della giornata per la vita con la distribuzione delle primule la gente collabora la gente collabora noi dobbiamo comprare solo latte e pannolini perché tutto ciò che riguarda beni materiali passeggini carrozzini vestiario sono dati spontaneamente e abbiamo anche il sovrappiù poi ci sono i diritti dei bambini che voi volete richiamare eh sì perché il primo diritto del bambino è proprio quello di poter nascere e quindi questo ci dà la spinta per aiutare queste mamme che tante volte sono in difficoltà soltanto per motivi economici e quindi a volte tentano anche di rinunciare alla propria creatura proprio perché mancano questi beni primari come è andata l'attività del centro di aiuto alla vita di Sestri Levante in questo ultimo anno la frequenza delle mamme è sempre maggiore ecco e noi siamo contenti di questo perché ciascuna mamma che viene porta con sé tutte le sue difficoltà e a volte anche la sua gioia ecco nonostante si trovi tanto spesso in condizioni un po' disagevoli ecco in generale l'esito è felice cioè riuscite ad aiutare le mamme ad accettare la gravidanza ma molto spesso sì poi purtroppo ci sono anche quelle che non sappiamo poi come vadano a finire la situazione come finisca così però abbiamo molte esperienze di mamme che sono riuscite a portare avanti la gravidanza anche per il sostegno non solo economico ma anche proprio di supporto di aiuto di cercare proprio di voler loro bene e loro si sentono accolte e quindi sono sono felici poi di accettare perché non ci sono mai mamme che si sono dispiaciute che sono rimproverate di aver portato avanti una gravidanza anche con tante difficoltà cerchiamo noi di non lasciarle sole di accoglierle di di voler loro bene a Sestri Levante e all'opera Madonnina del Grappa c'è anche la culla della vita come funziona? la culla per la vita sono già diversi anni che è stata inaugurata e finora ringraziando il cielo non è stata mai utilizzata però è in caso se una mamma decidesse di tenere il bambino lei lo può lasciare liberamente nella culla e subito si allerta tutto un sistema per cui il bimbo viene preso dalle signorine della Madonnina Madonnina del Grappa e poi vengono alertati l'ospedale i medici tutto ciò di cui si ha bisogno insomma abbiamo sentito questa testimonianza di Graziella Nicolini che a un certo punto ha detto non c'è nessuna mamma che si sia pentita di portare a termine la gravidanza lo riscontrate anche voi a Rapallo Antonella Carpi anche la sua esperienza in questo senso? Assolutamente sì la gioia che hanno poi dopo è indescrivibile davvero Magari si pensano di aver avuto brutti pensieri ma su quello non si indaga nel senso che comunque le si vede contente sollevate e loro sanno anche che anche nel caso in cui dovessero decidere invece per un'altra scelta da parte nostra non c'è nessun giudizio anzi l'accoglienza forse sarebbe ancora di più ecco Lei preterinaldo si è impegnato per fare nascere i centri di aiuto alla vita nella nostra diocesi che appunto non c'erano prima del 2001 2002 queste signore che svolgono questa delicata e nello stesso tempo incommiabile opera di affiancamento alle mamme hanno bisogno di una preparazione particolare di una sensibilità particolare sono splendide sono persone che hanno il gusto della vita che hanno la gioia di quello che hanno ricevuto per se stesse e sanno accogliere sanno motivare sanno coinvolgere veramente io credo che il bello dei centri di aiuto alla vita dei quattro sportelli che abbiamo sono proprio loro ecco poi noi come prete anche i mariti fiancheggiano aiutano portano diciamo dei servizi come struttura ma sono assolutamente determinanti e fondamentali nella loro capacità di accogliere di accompagnare di motivare di dire tutto il bello della vita ed è questo che aiuta le mamme a sentirsi meno sole a risolvere davvero tutta una serie differente di problemi da una persona all'altra e il messaggio è questo ecco se c'è qualche mamma o qualche famiglia che ha difficoltà ad accogliere la vita o dei punti interrogativi qualunque cosa sappia che può trovare un ascolto un'accoglienza un aiuto alla consapevolezza un aiuto a scegliere anche in modo diciamo più dialogato e quindi comprendendo meglio la sua situazione allora a questo riguardo per Ternaldo diciamo che c'è un numero verde già stato accennato e anche il comune di Chiavari ha diffuso nei pannelli questo numero verde per le mamme in difficoltà lo vediamo in sovrimpressione e possiamo anche con la regia con Stefano Noiold passare un breve messaggio firmato legato all'SOS Vita se hai difficoltà ad accettare la tua gravidanza chiama SOS Vita numero verde 8008 13000 c'è qualcuno pronto ad ascoltarti ed aiutarti sempre SOS Vita numero verde 8008 13000 insieme a te insieme alla vita adesso attenzione nello studio 2 perché è arrivato un messaggio particolarmente significativo vorrei portare la mia esperienza di mamma grazie ai meravigliosi consigli di Laura Robles ho potuto vivere le mie due gravidanze e le nascite dei miei bimbi in maniera positiva ancora oggi con i miei figli di 6 e 5 anni ripropongo tutti i suoi suggerimenti come ad esempio guardare i loro pollici mentre dormono Chiara da Genova e allora Laura Robles ci deve dire quali sono questi suggerimenti oltre a quello che viene citato da Chiara sì probabilmente parla Chiara del fatto che i bambini vivono delle emozioni e spesso appunto osservandoli noi possiamo capire quello che stanno vivendo o in quale condizioni sono il fatto di proteggere il pollice dentro il pugno così questo rappresenta me stesso e se io l'ho dentro al pollice vuol dire che mi sto proteggendo da qualcosa e quindi tocca alle mamme in questo caso capire di cosa da cosa si sta proteggendo il bambino e quindi di questo ne abbiamo parlato dopo la sua nascita l'osservazione dei bambini delle emozioni dei bambini per accompagnarli meglio ci può fare un altro esempio di questo tipo che magari rimane in memoria e che può aiutare anche le persone ma guardi sarebbero tanti forse il più pratico è questo i bambini dentro al ventre materno vivono cinque emozioni che si chiamano emozioni primarie che vengono fissate al momento della nascita e che poi le mamme possono riconoscere possono toccando il loro bambino capire se sono arrabbiati se hanno avuto paura toccando alcune parti del corpo del bambino e quindi niente io trasmetto questo anche alle mamme che il bambino può vivere la rabbia e il bambino va capito se prova rabbia quello che noi a volte diciamo ma cosa vuoi che sia sono cose da bambini per il bambino può essere stato un evento molto grosso che l'ha toccato moltissimo e quindi a volte sto fermandomi con le mamme e spiego a loro come riconoscere questi segnali adesso noi ritorniamo all'intervista a Carlo Casini proponiamo una seconda parte con un tema legato effettivamente all'attualità sempre il diritto di nascere la difficoltà di fare comprendere che l'embreone come viene descritto anche attraverso il contributo della medicina della scienza in questa puntata effettivamente è già un essere vivente è uno di noi dice movimento per la vita dice la chiesa cattolica abbiamo sentito l'iniziativa di questa petizione europea questo appello testimonianza che verrà proposto quest'anno per affermare che l'embreone è uno di noi però si riscontra più volte dall'Europa qualche segnale di ostilità Gli Stati Uniti stanno bloccando i finanziamenti per le associazioni che sostengono l'aborto in Europa invece si sta remando in senso contrario ci può fare un aggiornamento della situazione? questo è molto vero molto drammatico perché esistono organizzazioni internazionali potenti fortemente finanziate che propagandano l'aborto e lo fanno in migliaia di cliniche di loro proprietà guadagnandoci sopra e l'amministrazione americana la nuova amministrazione americana ha deciso di far cessare i finanziamenti di queste organizzazioni è in corso un'iniziativa da parte dei governi dell'Unione Europea per chiedere agli Stati di aumentare i danari che già oggi vengono dati a queste organizzazioni internazionali aumentarle ancora in qualche modo per riempire il buco di finanziamenti determinato dalle decisioni americane naturalmente questo è orribile proprio l'Europa che dovrebbe essere la paria dei diritti dell'uomo la paria della dignità umana è disposta a spendere soldi tanto più che nei trattati non è prevista una competenza dell'Europa in questo campo che almeno resta neutrale perché se dà soldi vuol dire che incoraggia non c'è più neutralità c'è proprio un'inimicizia con la vita noi speriamo che questo non avvenga noi speriamo che questa iniziativa uno di noi serva anche a bloccare questo tentativo di aumentare i fondi a favore della distruzione della vita umana anzi vorremmo che fossero eliminati del tutto citerei a Preterinaldo Rocca un commento su questa situazione effettivamente qui non si tratta di giudicare di condannare le donne che ricorrono all'aborto più volte è stato detto però è una questione culturale e politica effettivamente a livello europeo passa il concetto che l'aborto è un diritto e si dimentica effettivamente l'eliminazione dell'embrione da questo punto di vista vengono appunto anche finanziate le associazioni che in qualche modo facilitano l'aborto che cosa si può dire a riguardo? che l'egoismo trionfa il Papa chiede il coraggio di una rivoluzione civile per superare la cultura dello scarto il farci padroni della vita e della vita degli altri e di quella propria adesso con la dichiarazione anticipata del trattamento sanitario di queste cose ci vuole davvero questa rivoluzione civile come la chiama lui con coraggio non dobbiamo perdersi perché chi ama la vita chi la difende è una grandissima cosa chi aiuta una persona in qualunque situazione sia sia una mamma per accogliere sia una ragazzina che ha avuto dei problemi sia una persona anziana sia un malato terminale davvero fa un grande dono a tutta l'umanità e questa è una rivoluzione bella pacifica ma coraggiosa forte determinata che moltissimi devono fare i buoni stanno troppo zitti i buoni hanno paura i buoni soccombono alla mentalità dominante questa è la cosa brutta invece chi ama la vita deve uscire allo scoperto deve venire fuori ascoltato o non ascoltato l'anno scorso femminilei è servito proprio poco indubbiamente ogni anno si ripropone quest'anno ci sarà il 20 maggio a Roma la marcia per la vita esserci è anche importante per dire questo amore alla vita questo desiderio davvero bello di dire signore ce l'ha data noi aiutiamola la maggior parte dei nostri ascoltatori che si è espressa durante la trasmissione si è dichiarata favorevole al diritto di nascere il diritto per l'embrione di nascere c'è però anche chi sostiene che è giusto che in Europa venga riconosciuto il diritto all'aborto prete Rinaldo è chiaro che le scelte personali poi sono molte e dipende da dove arrivano hanno un percorso lungo non tutti hanno avuto la grazia di capire che la vita è un dono bellissimo non tutti sono stati accompagnati aiutati e quindi c'è una forma di chiusura alla vita e in qualche modo poi con tutte una certa componente di scuse o di quelle motivazioni pseudoscientifiche che dicono non è ancora completamente vita umana e quindi c'è tutta una serie di motivazioni più o meno reali più o meno vera autentica almeno per noi ma a fondamento quando si nega la vita a volte anche si pensa che ne so il bambino che probabilmente non c'è mai la certezza possa essere disabile allora poverino non lo facciamo soffrire è più un egoismo nostro sicuramente io dico anche se non voglio fare delle affermazioni categoriche sarebbe bello poterci incontrare faccia a faccia con queste persone e proprio ragionare insieme cercare insieme la verità cercare insieme il valore della vita capire quello che uno non ha ricevuto e per cui si sente di poter negare forse l'esistenza di un'altra persona quindi sì certo lei invita anche al confronto su questo siamo ormai in chiusura Domenico Coviaglio però ancora una battuta perché si perde un po' di vista il fatto che l'embrione così come è stato anche descritto durante la trasmissione nel caso dell'avorto viene eliminato per sempre e tra l'altro c'è un aspetto che non tutti conoscono anche quando viene praticata la fecondazione artificiale comunque c'è un sacrificio di alcuni embrioni certo quando viene praticata la fecondazione artificiale c'è una purtroppo una manipolazione dei gameti e c'è la produzione di un numero di embrioni che di solito è superiore a quello che viene utilizzato quindi questi embrioni vengono crioconservati o per successivi utilizzi oppure per un destino non ben precisato inoltre quello che si sta affermando in questo periodo è la diagnosi preimpianto e questo è ancora peggiore perché per poter valutare l'embrione che non ha un particolare difetto genetico bisogna produrne ancora di più di quelli che si producono normalmente nella fecondazione assistita quindi invece che 10 embrioni se ne producono 20 per poter andare a scegliere quello senza il difetto genetico e tutti gli altri vengono congelati eliminati scartati spesso mi si dice ma c'è già la diagnosi per Natale che differenza c'è meglio fare la diagnosi per l'impianto io rispondo sempre che la diagnosi per Natale è un atto sì medico ma il medico si trova di fronte a un evento naturale che è la gravidanza che è avvenuta e il medico si trova a dover dare delle informazioni sulla salute del feto ma c'è una situazione di uno a uno ammesso appunto che la madre sia in pericolo dover scegliere qual è il male minore ma non c'è certo l'intenzione del medico di fare nessuna selezione nella diagnosi preimpianto invece vengono creati appositamente degli embrioni per fare una selezione sulle caratteristiche fisiche del feto quindi concettualmente è veramente l'opposto e questo è molto chiaro nel frattempo arriva un'altra testimonianza la vediamo insieme la gravidanza è una fase particolare e delicata della vita di una donna la speranza è quella di avere accanto persone che ti capiscano e aiutino purtroppo non succede sempre questo perché c'è molto spesso poca attenzione ci si lascia sopraffare dalla vita di tutti i giorni si corre sempre in sostanza ed è lì che la donna si può sentire sola e non capita bisognerebbe prestare maggiore interesse alla donna che sia vicino ascoltarla a maggior ragione in un momento così particolare e bello quindi questo è un messaggio certamente per i mariti ma in generale per le famiglie che accompagnano le donne adesso abbiamo iniziato la trasmissione con la madre Teresa e la concludiamo sempre con la santa madre Teresa di Calcutta abbiamo parlato di una mostra che per tutta questa settimana si potrà visitare all'auditorium San Francesco di Chiavari vi proponiamo una breve spiegazione e anticipazione con Patrizia Achilli Presidente del Movimento per la vita del Tiguglio la mostra che è fotografica e documentaria che cosa presenta? la mostra presenta tutta la sua storia di tutta la sua vita tutto un percorso che viene evidenziato dalla parte superiore dei pannelli in cui ci sono i dialoghi interiori di madre Teresa con Gesù e quindi dal nascere della sua vocazione Gesù le ha detto non voglio che tu porti cibo ai poveri ma deve portare Gesù fino al momento ultimo della sua vita e il momento dell'oscurità infatti lei amava dire se io sarò una santa sarò una santa dell'oscurità continuamente assente dal paradiso per portare la luce a tutti coloro che sono nell'ombra in fondo alla fine della mostra noi abbiamo messo un luogo appartato dove le persone che hanno visitato possono meditare per chi non crede o pregare per chi crede e vedere ai piedi di questo crocifisso la scritta O Sete che è in ogni casa del missionario di carità di madre Teresa di Calcutta si trova in ogni parte del mondo si trova questo crocifisso con scritto O Sete la mostra resterà allestita all'auditorium San Francesco di Chiavari sino a domenica 19 febbraio tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 per prenotare le visite guidate bisogna contattare il numero telefonico 329 16 13 0 39 un flash pretenerà Aldo Rocca perché vale la pena visitare questa mostra perché è davvero molto bella molto toccante molto coinvolgente è un'immersione un po' nel mondo di madre Teresa e anche un invito poi a una grande riflessione non solo i Santi non sono da ammirare ma sono da imitare notizia freschissima giovedì sera alle 20.45 ci sarà lì all'auditorium accanto alla mostra un momento di preghiera partendo proprio dalle riflessioni dalle frasi dalle preghiere di madre Teresa è venuto fuori un po' come dalle guide dalle persone che hanno cominciato a venire questo desiderio di raccogliersi in preghiera con il suo aiuto proprio per ringraziare Dio del dono della vita bene grazie andate allora a visitare questa mostra perché ne vale la pena è arrivato ancora un messaggio lo vogliamo dire perché è spontaneo vorrei fare un applauso ai centri di aiuto alla vita dove puoi trovare persone gentili e disponibili pronte ad ascoltare consigliarti a rivolgerti un sorriso nel momento in cui ne senti più il bisogno e così concludiamo in bellezza perché siamo veramente alla fine grazie ai nostri ospiti Domenico Coviello Laura Robles Antonella Carpi Prete Rinaldo Rocca grazie ai nostri ascoltatori che hanno girato le loro testimonianze in diretta tv a tutti buonanotte e buona settimana e buona settimana grazie a tutti grazie a tutti